Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, nell'esprimere ancora la più sincera solidarietà e cordoglio per le vittime della strage di Nizza, punta il dito contro l'assessore regionale leghista allo sviluppo economico, Edoardo Rixi, che attraverso organi di informazione e social network ha accusato il governo italiano di essere responsabile morale dell'attentato di Nizza. Il PD considera volgare e gravissimo il tentativo da parte della Lega Nord di strumentalizzare le tragedie per il proprio tornaconto politico e giudica l'accusa di Rixi al governo italiano folle e scellerata, soprattutto perché avanzata da un rappresentante delle istituzioni. Per questo il gruppo del PD in regione ha chiesto al presidente Giovanni Toti di stigmatizzare e prendere le distanze dall'affermazione dell'esponente della sua giunta, che il PD considera anche lesive del ruolo che ricopre. Grazie a tutti.